Sarà il prefetto Alessandra Vinci Guerra ad aprire il ciclo di incontri promossi dal Centro di Cultura, gruppo operatore dell'Università Cattolica, al Collegio Santa Chiara di Alessandria, con l'intento di mettere al centro il confronto col pubblico su una professione intesa come scelta di vita e come ricerca continua. Non una lezione in cattedra quindi, ma una narrazione fluida che a partire dal 10 ottobre e poi con una cadenza che da calendario vedrà il martedì alle 21, la serata di riferimento, accoglierà fino al prossimo aprile in Sala Eris più professionalità. È una sperimentazione, abbiamo pensato insieme col Collegio Universitario Santa Chiara di offrire prima e soprattutto agli studenti universitari collegiali, ma poi a tutti gli universitari della città e anche a persone che universitarie non sono, lo sono state o non lo saranno mai, dieci incontri, non dieci lezioni, dieci conferenze, ma dieci incontri con una persona che non ci viene a raccontare i dettagli della sua esperienza professionale di ricerca istituzionale, quella che è, ma il senso, il metodo, il modo e quindi viene a mettere a confronto la propria vita complessiva con la professione. Vediamo che cosa viene fuori, ma l'idea è proprio di fare degli incontri, cioè non appunto un momento dove c'è un maestro, un professore che spiega quello che ha racimolato di interessante nel corso della sua vita, ma che mette a confronto la sua vita e permette ai partecipanti a loro volta di mettere a confronto la propria esperienza di vita nella età in cui si trovano, giovane o meno giovane, con un'altra esperienza personale.